Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei nuovi KLAN Duke Mid GTX, uno scarpone derivante dal trail running con delle ottime tecnologie che adesso vi diamo insieme pregi e difetti all'interno della sessione completa. Iniziamo come al solito dalle caratteristiche di questi Duke. Per quanto riguarda il battistrada abbiamo una Vibram Duke con mescola XS Track Evo e tecnologia Traction Lag. L'intersuola in EVA a doppia densità esiste anche nella versione bassa e nella versione mid che ho provato io pesa 470 grammi nella taglia 42. Adesso come abbiamo visto in qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalla suola di questi Duke. Nel particolare troviamo una Vibram Duke, una suola con mescola XS Track Evo e tecnologia Traction Lag che lavora bene. In generale mi ci sono trovato abbastanza bene. L'unico punto in cui ho trovato che non regge tanto il grip e non è così ottimale è in caso di roccia bagnata. La suola XS Track Evo è sicuramente un pochino meno performante e su roccia bagnata non dà il meglio di sé. Su roccia asciutta sì, nessun problema e anche per quanto riguarda il fango davvero nessun problema. Ma la roccia bagnata la soffre un po'. Infine per quanto riguarda la suola troviamo anche una piccola climbing zone sulla parte anteriore che ci aiuta nel caso avessimo trovare qualche roccetta. Non è sicuramente una scarpa pensata per andare su roccia ma poi dove è meglio utilizzarla lo vediamo dopo, però sicuramente averla non fa mai male. Passando a parlare dell'intersuola, quindi sono le caratteristiche più interessanti di questi Duke. Troviamo un'intersuola in eva a doppia densità. Come vi dicevo all'inizio è una scarpa derivante dal trail running e sul scarpe da trailer si usa l'eva e anche in questo caso hanno usato la stessa eva. A doppia densità perché una parte fa sì che abbiamo una certa morbidezza della scarpa, quindi possiamo camminare anche tante tante ore. Vi assicuro l'ho utilizzato in un trekking di 12 ore, sono tornato a casa senza nessun dolore ai piedi, senza avere le gambe stanche. E poi un'altra parte invece che è ad alta densità che vuol dire che ci va a proteggere per bene dalle rocce. Utilizzata questa scarpa anche su delle roccette, su degli spuntoni eccetera, non sentiamo nessun dolore sulla pianta del piede. E vi assicuro che questa combinazione tra intersuola morbido e intersuola più ad alta densità per proteggere le rocce è veramente ottimo per una scarpa che davvero possiamo utilizzarla per tantissime ore e non ci farà male ai piedi. Arriviamo a parlare della tomaia di questi Duke. Innanzitutto il puntale, un puntale veramente molto molto rigido. Rigido soprattutto perché nella parte proprio anteriore troviamo un prolungamento della suola, quindi proprio un baffo, chiamiamolo baffo, che va a proteggerci veramente tanto dalle rocce. Cioè con un scarpone del genere prendete a calci la roccia e non la sentite, quindi un'ottima protezione. Per quanto riguarda invece la tomaia in sé è divisa diciamo in due. Nella parte inferiore troviamo un bel fascione in gomma che va a proteggerci dagli urti, va ad evitare che la tomaia si strappi, quindi veramente un classico fascione da scarpone da montagna. Mentre il tessuto utilizzato nella parte superiore mi ha stupito soprattutto per la sua durabilità. È veramente un tessuto che anche a toccarlo vi dà quel senso di durabilità, di un tessuto che difficilmente si rompe. E per quanto riguarda la traspirabilità devo dire che è buona. Nonostante abbia una membrana in Gore-Tex Invisible Fit per quanto riguarda l'impermeabilità, io l'ho utilizzato in delle giornate abbastanza calde e non ho avuto il piede che sudasse eccessivamente. Quindi comunque anche un ottimo compromesso per quanto riguarda la traspirabilità. Arrivando a parlare del tallone, qui troviamo, vabbè, in questo caso un tallone abbastanza alto perché io ho la versione mid. Un tallone comunque abbastanza strutturato soprattutto nella parte inferiore che pian piano si destruttura arrivando nella parte superiore della fine del collare ad essere molto morbido. Un collare che ci aiuta davvero tanto a non avere svesciche perché comunque è molto morbido e in generale vi assicuro che, beh, anche grazie al fatto che sia mid non ci farà prendere alcuna storta. Davvero, è un scarpone col quale io l'ho utilizzato davvero tante tante ore, tenuto anche un po' aperto e vi assicuro che non ho avuto problemi di storte. Quindi molto probabilmente anche la sua versione bassa non ci sarà questo problema. E non ci farà prendere storta anche grazie al sistema ALS che insieme ai lacci fa sì che possiamo andare a serrare per bene tutta la parte della caviglia e del collo del piede. Davvero ha un serraggio molto molto fine, mi è piaciuto tanto, si può serrare in modo tale che proprio il piede non si muova, quindi anche la parte di componentistica dei lacci, soprattutto questo sistema ALS, niente male. Dei lacci però non mi è piaciuta la loro grandezza. Sono fin troppo piccoli. Questo cosa vuol dire che quando vado a stringerli, cioè a fare proprio pressioni per stringerli, mi taglio un po' le mani, cioè fa proprio male alle mani test tirarli tanto questi lacci. Secondo me se avessero messo un laccio un pochino più grosso, ci sarebbe stato meno questo problema se avessero riuscito anche a tirarli meglio. Per quanto riguarda la soletta, questo proprietario di Keyland, io mi ci sono trovato bene. E' una soletta abbastanza spessa che mi è piaciuta, si può cambiare, ma io sinceramente mi ci sono trovato bene, quindi andrei avanti a utilizzare questa. A livello di calzata, qui c'è tanto da dire, perché questo che ho provato io è un 46, io di solito utilizzo il 47. Il 47 per me era enorme, veramente enorme. Allora ho deciso di provare il 46, nonostante abbia preso un numero in meno, l'avampiede è ancora molto molto grosso. Così grosso, così grosso che anche nonostante io stringa tanto tanti lacci, mi fa muovere un po' il piede all'interno dello scarpone. E questo fa sì che lo scarpone non l'abbia trovato così preciso, proprio perché da avendo tanto spazio sull'avampiede, forse, non dico che avrei dovuto prendere ancora mezzo numero in meno, perché comunque a quel punto avrei toccato in punta, però veramente ha un avampiede molto 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 generoso. Ma perché consiglio questi Keyland Duke? Allora secondo me può andar bene un po' per chiunque, sia da chi si avvicina, magari con questa versione mid un pochino più alta per proteggere la caviglia, sia chi invece vuole andare veloce, che va spesso in montagna, con la versione più bassa. Quindi dal punto di vista che chi utilizzarli davvero, dal più esperto al principiante, senza nessun problema. Su che terreno utilizzarli? Quindi diciamo che sicuramente i terreni misti sono dove questo Duke dà il meglio di sé. Eviterei quei sentieri fatti praticamente solo solo di roccia, perché in quel caso magari la suola XS3 Kevo non è proprio la migliore, non abbiamo proprio una climbing zone vera e propria sulla parte anteriore, però diciamo che è un sentiero misto, in cui possiamo trovare anche delle loro roccette, ma comunque in breve parte, allora lì davvero dà il meglio di sé. Arriviamo dunque alle conclusioni per questi Keyland Duke. Ve li consiglio? Sì, sul sito di Keyland li si trova a 200€, online ne sanno sui 150-160€. Secondo me questo è davvero un ottimo scarpone, soprattutto per chi inizia e magari dice, ok, posso spendere una certa cifra, però magari voglio uno scarpone che mi accompagni sia quest'anno che sono un neofita, sia negli anni prossimi in cui magari voglio andare a fare qualcosa un pochino più complicato. È uno scarpone ottimo anche perché cammina tanto, per chi davvero magari sta fuori anche 12-13 ore a camminare, è uno scarpone veramente che a me è piaciuto tanto tanto tanto, soprattutto mi sono piaciuti i materiali di questo Duke. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esastivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Grazie.